Non mangiate le barrette di Mars o Snikers che riportano una data di scadenza compresa fra il giugno 2016 e il gennaio 2017. Il motivo? Potrebbero contenere della plastica. È quanto riportato nell'articolo del sito La Stampa. La compagnia Mars ha annunciato il ritiro di prodotti dei marchi Mars, Snikers, Milky Way, Mintz e Miniatures, nonché alcune delle confezioni Celebration vendute in Italia, Francia, Germania, Belgio e Olanda. La multinazionale alimentare Mars ha ordinato un maxi ritiro di prodotti dopo che un consumatore ha trovato un pezzetto di plastica in una confezione. I dolciumi ritirati dalla vendita sono quelli con data di scadenza compresa tra il 19 giugno 2016 e l'8 gennaio 2017. Si pensa che sia stata la denuncia di un cliente che si è ritrovato con dei pezzi di plastica in bocca a far scattare il piano d'emergenza. Vogliamo evitare il rischio che altre persone si trovino nella stessa situazione. Si legge sul sito tedesco della Mars, stando a quanto riportato, si tratta del più grosso incidente mai accaduto nel corso della lunga storia dell'azienda e tra gli utenti del web è già scoppiato il panico con diverse segnalazioni di confezioni incriminate consumate all'insaputa di tutto negli scorsi giorni.